Prince Harry, Spear, il minore. Capitolo 49. Più o meno in quel periodo, subito prima o subito dopo il matrimonio, partì con Willie per un addestramento presso il British Special Boat Service. Niente di ufficiale, ma solo un gioco da ragazzi, come lo definivamo, più che altro un divertimento, anche se nasceva da una tradizione solenne e di lunga data. La nostra famiglia aveva sempre mantenuto stretti rapporti con le forze armate britanniche. A volte si esprimevano in una visita ufficiale, altre in un pranzo, oppure ancora in una chiacchierata in privato con uomini e donne tornati a casa da una guerra. In altri casi, però, venivamo chiamati a prendere parte a rigorose esercitazioni. Niente suscitava maggiore rispetto nei militari che fare o provare a fare il loro lavoro. Queste esercitazioni erano sempre coperte dal silenzio stampa. Le forze armate preferivano così, e Dio solo sa quanto noi fossimo d'accordo. Era stata mamma ad accompagnare Willie e me alla nostra prima esercitazione militare, una killing house nella Heredfordshire. Ci misero tutti e tre in una stanza ordinando di non muoverci. Poi spensero le luci e restammo al buio. Una squadra battè la porta e lanciò granate stordenti, spaventandoci a morte, il che era esattamente lo scopo. Volevano insegnarci come rispondere nel caso le nostre vite fossero state in pericolo. Nel caso. La frase ci fece ridere. Ma avete presente cosa riceviamo per posto ogni giorno? Quel giorno con Willie tuttavia fu diverso, molto più fisico, molto più partecipato, meno incentrato sull'addestramento e molto più sull'adrenalina. Corremmo attraverso Pool Harbor sui motoscafi, attaccammo una fregata, ci arrampicammo su scale di corda sparando con mp5 da 9 mm caricate con proiettili a vernice. Durante un'esercitazione corremmo lungo una rampa di scale metalliche nella stiva. Qualcuno spense le luci, immagino per rendere la situazione più interessante. Nel buio più completo mi mancavano quattro gradini quando caddi e atterrando sul ginocchio sinistro urtai un bullone che sporgeva dal pavimento. Provai un dolore lancinante. Riuscì a rialzarmi, a proseguire e a portare a termine l'esercitazione, ma alla fine quando saltammo il mare dalla piattaforma per gli helicopteri scoprì che il mio ginocchio non funzionava, anzi tutta la gamba. Uscendo dall'acqua mi sfilai la muta e quando Willie diede un'occhiata in palidì. Il ginocchio sanguinava copiosamente. I paramedici arrivarono nel giro di qualche minuto. Qualche settimana più tardi il palazzo annunciò che il mio ingresso nell'esercito sarebbe stato rimandato, adatta da destinarsi. I giornalisti chiesero il motivo. L'ufficio comunicazione del palazzo disse loro che il principe Harry si è ferito a un ginocchio giocando a rugby. Leggendo i giornali con la gamba sollevata in alto e la borsa del ghiaccio, scoppiai a ridere. Impossibile non provare un minimo di esaltazione al pensiero che i giornali avevano pubblicato una menzogna su di me, per una volta involontariamente. Ben presto tuttavia ebbero la loro vendetta. Cominciarono a pompare una storia secondo la quale avevo paura a entrare nell'esercito, che mi volevo ritirare e fingevo una ferita al ginocchio per prendere tempo. Insomma, dicevano che ero un codardo.